E per alcuni investimenti valuteremo la possibilità di applicare il modello del Ponte Morandi. Ricordate Genova? Ecco, questo modello ci insegna che quando il nostro paese viene colpito sa rialzarsi, sa fare squadra, sa tornare più forte di prima. Lo applicheremo ovunque sia possibile. Il modello Genova deve diventare il modello Italia e usciremo insieme da questa situazione, da questa emergenza.